Buongiorno a tutti voi per essere qui, un giorno importante per tutti i miei figli e vorrei ringraziare soprattutto mia madre e mio padre, mi carbochera, tutti i miei pareti, tutti i miei pareti, tutti i miei amori, le cucine! Vi ringraziare in Banda Carabù, da Zonio, da Zalatano, da Zopri, da De Barco, da De Pinto, grande buone! Vi ringraziare Gianni, da Diario, da Diario Sforzini, un fratello, un grande amico, 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 voglio ringraziare Guadagnoli, Andrea, tutta la sua famiglia, Cianci, voglio ringraziare tutti i miei amici, in Italia, Daniela, Mattia, Francesco, Tiziano, Marco, tutti quanti che sono sempre che vuole, tutti i miei amici, due pari, mia madre, Marco, Cianci, Suona, Maria, Anna, Marco, Tiziano, Tiziano, Maria, Anna, We ringraziamo Andrea Barbea! We ringraziare a tutti perché questo è il giorno che sogniamo! Sogniamo la stagiarla quello che sogno, la sua madre Francesca. Grazie a tutti! Grazie.